Questo Spitfire viene scavato nel 2020 a Villa Dose, in provincia di Rovigo. È un lavoro di archeologia dei conflitti in tutto. Ci sono gli archeologi, c'è l'intervento della soprintendenza. Non è la caccia al cimeglio. Non è la caccia al cimeglio da mostrare come siamo bravi, ma è il frutto di un'attività di ricerca durata anni. Noi adesso la raccontiamo, ma partendo da, come sempre, quelle che sono testimonianze materiali, lo scopo dell'archeologia, raccontiamo anche quella che è la storia di un essere umano, del pilota e della famiglia che ci sta dietro. Qui è mettere in contesto gli oggetti e raccontare una storia. Questa, in fondo, è null'altro che archeologia. Qui siamo di fronte a uno Spitfire Mark IX che era pilotato dal tenente Arnold Allas del 601esimo squadron della Royal Air Force. Questo aeroplano è stato abbattuto il 30 aprile 1945. Quello che voi vedete è una ricostruzione, un assemblaggio della fusoliera parziale, della fusoliera dell'aeroplano, ottenuto mettendo insieme i pezzi che abbiamo estratto dallo scavo, applicati sul mock-up di una fusoliera dello Spitfire ricostruita in legno da disegni originali, quindi in scala assolutamente perfetta. I pezzi che voi vedete erano chiaramente, non erano in questo stato, erano molto contorti. Abbiamo con molta pazienza provveduto a stenderli e ad applicarli su questa struttura, quelli che chiaramente era possibile farli. È stato un lavoro impegnativo, assolutamente impegnativo. Potete immaginare che l'alluminio aeronautico non è alluminio da lattine o da barattoli, è estremamente duro e quindi tutto il lavoro di piegatura è stato assolutamente impegnativo. Avete calcolato grosso modo il numero di pezzi in cui era stato ritrovato? Molte centinaia di pezzi. Ci sono taluni pezzi che non sono utilizzabili, quindi abbiamo ancora in deposito un contenitore con tutti i pezzi che non abbiamo potuto utilizzare. Se andiamo dall'altra parte, possiamo vedere alcuni pezzi che non abbiamo steso per un semplice motivo. Voi vedete qua una parte di fusoliera in cui si vede ancora la coccarda della Royal Air Force. Questi colori sono estremamente stabili, quindi se noi proviamo, provvediamo a stendere questo pezzo, andiamo a perderli. Quindi questa parte di reperto l'abbiamo lasciata così come stava, sommariamente pulita, onde evitare di perdere la testimonianza. Pezzi come questo in deposito ne abbiamo diversi che non sono utilizzabili. se all'interno dell'abitacolo abbiamo anche in questo caso utilizzato quello che potevamo utilizzare e abbiamo ricostruito il seggiolino e l'impugnatura della cloche in quanto questi due pezzi risultavano distrutti e quindi non impiegabili. abbiamo provveduto a livello didattico di ricostruire il seggiolino in legno e la cloche con una stampante laser con il pulsante di sparo. Il pulsante di sparo è ancora presente, poi lo vediamo nelle vetrinette. del seggiolino però abbiamo l'imbottitura che è assolutamente originale, la blindatura e la struttura di sostegno che è originale con alcuni pezzi sostituiti. In più abbiamo il battellino di salvataggio anche lui totalmente originale. All'interno dei resti dell'abitacolo c'era anche il paracadute. Il paracadute che voi vedete steso qui sul soffitto era ancora chiuso nei resti del suo contenitore perché il pilota non aveva potuto lanciarsi e era arrivato al suolo col suo velivolo. Abbiamo ritenuto opportuno di aprirlo perché l'aeroplano era immerso dentro il suo carburante. Quindi tutti i pezzi che abbiamo estratto erano imbevuti di carburante. Il nostro timore era che tirando fuori il paracadute a contatto con l'ossigeno la reazione del carburante rischiasse di corrodersi e quindi l'abbiamo aperto, l'abbiamo arieggiato e l'abbiamo steso qui sul soffitto. Nell'ultimi strati in profondità dello scavo abbiamo ritrovato il motore Rolls-Royce Merlin serie 66. Chiaramente questo motore non era in queste condizioni. L'abbiamo trovato sezionato in varie parti in cui avevamo la parte principale del motore, avevamo l'intercooler, il turbocompressore, il carburatore, e il mosso dell'elica con il sistema di variazione del passo. Quindi era frazionato in varie parti con tutti i vari anche accessori separati. Abbiamo provveduto anche in questo caso con un grande lavoro di pulizia e di riassemblaggio per renderlo visibile anche a livello storico e didattico. Abbiamo provveduto anche ad aprire un coperchio delle valvole per rendere evidente sia la tecnologia del motore e anche lo stato di conservazione del reperto. Queste valvole erano coperte di sabbia che unita alla mancanza di ossigeno l'ha mantenuta nelle condizioni che vedete. In più abbiamo applicato tutti i vari accessori che potevamo applicare sul motore. La coppa dell'olio, il coperchio della coppa dell'olio risultava rotto, come vedete, in queste condizioni e quindi l'abbiamo separato e è possibile visionare all'interno lo stato dei pistoni e dei cilindri ancora in condizioni eccellenti per l'epoca, per il tempo in cui è stato immerso nel terreno. Gli ultimi pezzi del motore li abbiamo recuperati circa 8 metri di profondità. Da premettere che prima di arrivare allo scavo siamo partiti da ricerche storiche, documentali e di testimonianza. In particolare la nostra ricercatrice, la dottoressa Elena Zauli, aveva fatto delle indagini proprio sui documenti alleati, sulle perdite alleate nella zona della provincia di Rovigo e del Polesine. Con queste ricerche siamo andati nella località che risultava dal rapporto di perdita del velivolo nella località di Villadose e abbiamo fatto delle indagini in loco e siamo arrivati sul sito del CRESH. Individuato il sito del CRESH con le autorizzazioni della Sovrintendenza per i beni archeologici delle province di Verona, Rovigo e Vicenza abbiamo fatto le indagini prima superficiali. Individuato il punto del CRESH abbiamo eseguito lo scavo archeologico. Lo scavo è stato eseguito il 30 ottobre del 2020 e erano presenti come previsto degli archeologici che ci hanno assistito in tutte le operazioni di scavo. Lo scavo è stato abbastanza impegnativo perché il velivolo è penetrato molto in profondità. Siamo arrivati con gli ultimi reperti intorno agli 8 metri di profondità nel terreno, nelle argille polesane. Ecco, come si infilano i velivoli a questa profondità? Allora, è evidente che stiamo parlando di velivoli che pesano mediamente in ordine di volo dalle 3 alle 4 tonnellate. Di queste 3 o 4 tonnellate una tonnellata è in prua davanti con il motore mediamente. Questi velivoli sono colpiti in particolare se sono colpiti a una determinata quota puntano verso il basso con un elevato angolo di rampa e elevata velocità parliamo dai 400-500 km all'ora e quindi è chiaro che si infilano nell'argilla nell'argilla della bassa padana si infilano come un maglio e penetrano in profondità. Abbiamo dei testimoni che ci raccontano che dopo il crash sulla voragine creata dall'aeroplano non si vedeva addirittura più l'aeroplano si vedevano solo i pezzi rimasti fuori ma l'aeroplano scompariva inghiottito dall'argilla o dalla torba a seconda delle zone dove precipitava. Ecco il motivo per cui li troviamo a questi livelli. Ci sono delle testimonianze forti che abbiamo estratto dal nostro scavo ci sono i suoi effetti personali e la sua divisa. Questa divisa e i suoi effetti personali li abbiamo, volevamo consegnarli ai parenti che sono stati qua con noi l'anno scorso per la cerimonia di sepoltura del corpo e i suoi parenti hanno invece ritenuto e ci hanno chiesto di tenere la sua divisa e i suoi effetti personali insieme al suo aeroplano e di renderli visibili in modo che le persone possono ricordarsi di lui e del suo sacrificio. Quindi abbiamo insieme ai resti dell'aeroplano i resti della sua divisa anche lei è stata ritrovata a Brandelli e abbiamo ricostituito come un puzzle su questa teca e in più i familiari hanno deciso sempre di mettere a disposizione del pubblico e di noi le sue medaglie che sono qui esposte sempre a testimonianza della sua vita e del suo ricordo. La filosofia della nostra associazione è quella di ricostruire la storia umana per noi il cimelio è importantissimo piace, è bello ma quello che a noi interessa è l'uomo dietro c'è una storia c'è un uomo c'è una guerra e spesso c'è della sofferenza in questo caso siamo di fronte a un ragazzo di 24 anni che è morto il 30 aprile 1945 questa è la sua fotografia si chiama Arnold Allas proveniva dall'Inghilterra dal paese di Barton of Trent lui faceva parte della riserva della forza aerea è una storia molto bella di questo ragazzo perché lui era un volontario è un ragazzo che poteva non andare in guerra perché lui era impegnato nella industria bellica come operaio nell'industria bellica e quindi poteva tranquillamente non entrare in guerra e invece ha voluto servire il suo paese combattere per il suo paese e l'ha voluto fare da pilota era appassionato di volo e purtroppo non è tornato a casa abbiamo avuto la fortuna di ritrovare anche i suoi familiari Arnold ha una sorella tutt'ora vivente ha 94 anni quando abbiamo fatto lo scavo che abbiamo trovato chiaramente c'erano anche i suoi resti oltre ad attivare le autorità locali abbiamo comunicato all'ambasciata del Regno Unito questo ritrovamento l'ambasciata del Regno Unito ha preso in carico il riconoscimento ufficiale del corpo e ritrovare i parenti viventi del pilota e quindi è riuscita a ritrovare queste persone e queste persone si sono messe chiaramente in contatto con noi e quindi è entrato un bellissimo rapporto con questa famiglia che ci ha fornito la sua foto e anche alcune foto di quando lui era nelle scuole di volo come in questo caso la scuola di volo in Sudafrica e i suoi compagni del corso di volo in Sudafrica abbiamo il portafoglio abbiamo il kit di sopravvivenza abbiamo il taccuino in cui erano contenute le sue medaglie di riconoscimento e abbiamo i pettini che lui portava con sé in volo essendo un ragazzo evidentemente i pensieri erano anche del suo aspetto fisico abbiamo i guanti la cintura e la sua cuffia la sua cuffia di volo questa storia ha avuto dei risvolti umani incredibili nel paese di Villadose che ricordo è in provincia di Rovigo dove è stato ritrovato l'aeroplano e dove è precipitato l'aeroplano si sono affezionati alla storia alcuni insegnanti delle scuole primarie del paese e hanno coinvolto i loro studenti nella ricerca nella conoscenza della storia la nostra associazione è stata presente nella scuola e nella scuola abbiamo spiegato abbiamo raccontato quello che è successo e quindi è stata fatta tutta una serie di diciamo di attività legate al crash una di queste proprio questi ragazzi hanno redatto un albo con una lettera da inviare alla sorella Heather di Arnold quindi quello che voi vedete qui sono lavori fatti dai ragazzi questo albo in originale è in questo momento a casa della sorella in Inghilterra con i pensieri di questi ragazzi e questo che vedete è una riproduzione qual è stata la reazione della sorella? la reazione è stata assolutamente di grande commozione con addirittura l'intervento da parte dei figli in modo da presentare i disegni con loro presenti per il timore che l'emozione potesse lasciare dei segni a questa signora di 94 anni a questa signora a questa signora